Potrebbe aver avuto un malore senza che nessuno se ne accorgesse, ma il primo referto medico parla di annegamento. La bimba di otto anni, annegata a Bibione sotto gli occhi dei genitori, che erano sulla battigia a pochi metri di distanza, galleggiava già nell'acqua quando qualcuno si è accorto che era in grande difficoltà. I bagnanti in primi si hanno dato l'allarme e ha corso un bagnino della spiaggia centrale di Piazza Zenit, ma particolare che in corso di accertamento il defibrillatore utilizzato non avrebbe emesso nessuna scarica elettrica. Ci sono sei defibrillatori sulla spiaggia, dove d'estate sono allestiti anche sei ambulatori di primo soccorso, ma siamo in piena stagione e c'è moltissima gente lungo tutto il litorale. Tutto però si è rivelato inutile quando è intervenuto l'elicottero. Per la piccola non c'era già nulla da fare, il suo cuoricino aveva smesso di battere, nemmeno le procedure di rianimazione hanno potuto salvarla. Una bambina di otto anni, di nazionalità tedesca, che sapeva nuotare, era in acqua da sola, mentre i genitori, che erano in vacanza proprio dalla Germania a Bibione, la controllavano dalla battigia. Sembra che la bimba avesse già qualche problema di salute, non è chiaro però se proprio di natura cardiaca. Le indagini sono a carico dei carabinieri di Bibione, coordinati dalla procura di Pordenone, e dovranno verificare tutte le circostanze dal momento dell'ingresso in acqua della piccola fino al suo decesso.